Allora Alma, cosa farà questo manipolo attraverso il congelamento, quindi andremo ad una temperatura di meno 8 gradi, andrà a ridurre l'alipe localizzato, quindi andiamo a perfezionare l'addome di scolpito. Sarà scolpito? Vediamo, speriamo. Va bene. Perché mi ha chiamato l'istituto di Belle Arti di Firenze. Ah sì? Sì, certo. Sì, perché a te la finisco qua tolgono il Davide e mettono a me. Va bene, ora tu mi devi dire se è indolore, cosa senti, cosa avverti. Ragazzi, non a Balazzo Pitti dove non c'è l'originale, proprio in Piazza della Sì. Va bene. Va bene. Allora Alma, azioniamo? Sei pronto? Sei pronto? Guarda, guarda, guarda. Ah, sta risucchiando. Sì, sì, ha aspirato tutta il panicola riposo, quello che prima ho applicato. Posso farti una domanda? Dimmi tutto. Ma posso metterla nella bocca di qualcuno? No. No, purtroppo no. Ma cosa stai avvertendo? Niente, mi piace. Ti piace? Ora, pian piano sta scendendo dei gradi. No, 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 non ti preoccupare. Ancora siamo a 21 gradi positivi e pian piano gradualmente scenderà a meno 8 gradi. Quindi lui non percepirà il dolore, il fastidio del congelamento. Ok. Sentirà un lieve formicolio, dopodiché è completamente anestetizzata la zona. Ma lo posso fare anche in tutto il corpo? Tutto il corpo, in tutte le zone. In chi puoi berna? In chi puoi berna? Allora di berna. Quindi fondamentalmente stiamo, tra virgolette, congelando la massa grassa dell'addomo. Ma la cosa meravigliosa è che del congelamento ovviamente lui sarà soltanto anestetizzato, quindi non percepirà niente, non percepirà dolore, fastidio niente. Quindi è una cosa indolore, non invasiva, perfetto. Per uomo e per donna, quindi. Per uomo e per donna. Ok. Ah vabbè, a tra poco. Sì, certo, ovviamente. A tra poco con un nuovo step. Ragazzi, ecco il secondo manipolo. Ok, vado? Vai, vai. Così vediamo. Guardate, guardate ragazzi, guardate come risucchia. Sta risucchiando tutto. Sì, il conto è risucchiato in questo momento. Ma è bravissimo, è bravissimo, non si lamenta, ma perché non c'è niente da lamentarsi? Guardate ragazzi, i due manipoli che vi ho fatto vedere prima, uno già è sceso a 7 gradi, l'altro a 17, quello che è stato messo dopo, diciamo. Questo è a 7 gradi, questo è a 17, perché devono arrivare a meno 7 se non erro. Amo, fastidi, dolori. Assolutamente. Quindi possiamo dirlo che è indolore, non è invasivo. E questo ci aiuterà ragazzi a tornare in forma, senza grasso, una panza. Tra poco mi faccio magari io scelto. Vabbè, a dopo, a dopo.